Come valutate la decisione del Ministero di bandire nuovi concorsi invece di attingere dalle graduatorie degli idonei? Penso che il senso non ci sia, infatti sono venuta qui dalla Romagna per gridare a gran voce che un altro concorso non lo vogliamo fare, siamo già idonei, abbiamo già superato brillantemente le prove ed è giusto redigere una graduatoria e attingere da quella. Grazie.